Ho ascoltato alla radio che la sindrome di relazione olfattoria è una malattia per cui il malato si lava continuamente e non esce mai per paura che possa mandare cattivo odore è possibile? sono possibili tutte le limitazioni che il vostro io può inventare e che per vostra insufficiente evoluzione chiamate malattie grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.